quindi questo è un megaron questo è un tempio a megaron e abbiamo questa è la cella che doveva contenere la divinità questa struttura tipo quella che c'è ai stersili si come quello di estersili un po più grande molto più grande quello di estersili questo è il tempio a megaron della civiltà noragica che ricorda più da vicino l'architettura d'oro viene prima dopo le tombe dei giganti questo dovrebbe essere contemporaneo perché questo è un luogo di culto della città dopo 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 e qui siamo vedete questo è doppiamente in antis abbiamo il prolungamento dei latti retta del rettangolo in avanti che crea quindi un vestibolo e poi lo abbiamo un prolungamento accennato anche nel retro perciò questo si chiama doppiamente in antis attorno poi c'è l'area sacra delimitata da quella struttura muraria di cui si intravede